Oggi alla Camera, alla Lega? Sì, ho ascoltato l'intervento del Presidente Letta, non mi pare abbia detto cose significative dal nostro punto di vista che possano farci cambiare idea rispetto al voto contrario dato al suo insediamento, quindi confermeremo il voto contrario. Cosa ne pensa di quello che sta succedendo all'interno del PBL? Grazie, no comment.